Il sistema giudiziario sostiene il funzionamento dell'intera economia e l'efficienza della giustizia rappresenta una condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per un corretto funzionamento del mercato. Quindi appunto questo legame, non esiste crescita economica, non esiste un funzionamento corretto del mercato senza un'amministrazione della giustizia che prosegua di pari passo. E quindi la riforma cartabia si muove proprio in questo senso, ovvero nella direzione di togliere le nubi che attualmente circondano invece il processo penale e l'amministrazione della giustizia. Nubi che sono fatte fondamentalmente di lungaggini ingiustificate, di un'eccessiva burocrazia e di scarsa digitalizzazione. Naturalmente andremo poi a vedere nello specifico proprio i punti della riforma cartabia attraverso l'aiuto e il supporto dei nostri relatori e, come suggerisce proprio il titolo della conferenza, andremo anche a chiederci, a domandarci che cosa auspicare per il futuro della giustizia penale e per il ruolo di penalista. Ecco, dopo questo doveroso intro io direi che possiamo far partire ufficialmente i lavori e io chiamo sul palco i relatori di questo forum che interverranno appunto in questa mattinata. Prego ecco di raggiungermi sul palco l'avvocato Andrea Stogliani, penalista e presidente della Camera Penale di Milano. Eccolo, sta per arrivare sul palco e poi insieme a lui ci sarà anche il professor Alessandro Provera, professore di diritto penale Università del Piemonte Orientale of Council Studio Legale Baccaredda Boy. E poi il nostro terzo e ultimo relatore Francesco Mazzacuva, presidente della sezione Young Penalists dell'Associazione Internazionale di Droid Penal. Eccolo, sta arrivando anche lui sul palco per completare il panel di discussione. Innanzitutto, buongiorno e benvenuti. Buongiorno a lei. Eccolo, anche il dottor Mazzacuva. Buongiorno. Bene, allora, insomma, un tema veramente importante e significativo, quello della riforma appunto della giustizia, del futuro della giustizia penale che, come abbiamo detto, è contenuto, anzi non solo è contenuto, è proprio un caposaldo che ritroviamo all'interno del PNRR. E, dottor Sogliani, ecco, avvocato Sogliani, vorrei partire innanzitutto da lei e da una visione politica, ecco, della riforma Cartabia. Quali sono gli aspetti positivi e quali invece quelli negativi, se ci sono naturalmente in termini di efficienza? Cosa aspettarsi esattamente da questa riforma? Mi fa una domanda complicatissima, nel senso che quali siano gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi, raccontarlo in qualche parola è molto complesso. Certamente c'è un dato positivo, che è quello di aver voluto mettere mano e aver tentato di mettere mano a un problema che esiste, rispetto al quale non possiamo nasconderci dietro un dito, anche perché servirebbero tantissime dita, ovvero quello del non funzionamento o malfunzionamento della giustizia penale. Noi, come associazioni di penalisti, da sempre interveniamo, diciamo, su questi temi, proprio perché il mancato funzionamento della giustizia va a detrimento di tutti, va a detrimento della collettività, diciamo, e va a detrimento dei soggetti che direttamente sono toccati dal processo penale. La giustizia penale non funziona, lo diceva lei, per una serie di ragioni, la prima delle quali è evidentemente l'eccessiva lunghezza dei procedimenti. Sono ormai qualche anno che noi ci agitiamo nei confronti di quelle riforme che attengono alla prescrizione e all'aumento, diciamo, del termine di prescrizione per i reati che non sta che a significare che i processi saranno sempre più lunghi. Forse qualche dato è importante tirarlo fuori. La prescrizione dei delitti che si prescrivono nel periodo più breve è una prescrizione di sette anni e mezzo, sette anni e mezzo che a partire dal primo gennaio del 2020 possono intercorrere tra la commissione del fatto e la decisione di primo grado e poi si può rimanere imputati a vita. Sette anni e mezzo nel mondo normale sono un bambino che arriva in seconda elementare. Mio figlio nasce, arriva in seconda elementare e questi sono i periodi più brevi di prescrizione nel nostro ordinamento e la prescrizione è quello che in qualche modo, non possiamo anche qui non raccontarcela, orienta la durata dei processi. Quindi noi abbiamo, i dati statistici su questo mi confortano e mi danno ragione, noi abbiamo una serie enorme di prescrizioni che maturano nel corso delle indagini preliminari, credo che il dato sia nell'intorno del 60%, potrei sbagliarmi, ma il 60% delle prescrizioni maturano nel corso delle indagini preliminari e questo significa che noi abbiamo dei procedimenti, perché ancora non sono dei processi, che durano più di, nel periodo che vi dicevo, o di sei anni se non è intervenuto un atto interruttivo della prescrizione. Però noi abbiamo una quantità di procedimenti che stanno fermi nel corso delle indagini per i quali poi matura la prescrizione. Abbiamo dei processi per cui noi ci troviamo ad avere i nostri assistiti che abbiamo conosciuto, che avevano 40 anni e arriviamo alla fine che ne hanno 55 e 60. È una persona diversa. Questo non funziona e non funziona per chi venga condannato e non funziona per chi venga assolto e non funziona per chi sia la presunta persona offesa da quei reati, perché la giustizia non restituisce nulla ed interviene con dei provvedimenti che non possono avere la finalità che dovrebbero avere, che è una finalità rieducativa, perché questo dovrebbe essere la finalità del provvedimento laddove questo sia di condanna. Laddove invece io venga assolto di lì a tanti anni avrò subito un martirio ingiustificato che è durato un periodo tale per cui mi sono rovinato la mia esistenza, perché chi viene intercettato dal procedimento penale si rovina la propria esistenza. Abbiamo poi altri dati che sono relativi alla quantità di assoluzioni che intervengono nell'ambito dei processi. Anche qui cito delle statistiche non precisissime, ma ce le siamo raccontate tante volte e è sufficiente andare a vederle, ma nei procedimenti per esempio che vanno una citazione diretta a giudizio, il dato credo sia quello milanese, è quello del 40-45% di assoluzioni rispetto ad ognuno di questi procedimenti. Quindi noi abbiamo un procedimento che arriva, una notizia di reato che arriva a giudizio dopo diversi anni, dopo 4-5 anni, e poi abbiamo una sentenza di assoluzione nel 40% dei casi che arriva di lì a altri 2-3 anni. È chiaro che questo non va bene nel modo più assoluto e non va bene anche rispetto a coloro, e questo lo dicevamo qualche anno fa quando manifestavamo contro l'entrata in vigore di questa prescrizione nuova di cui introdotta, diciamo, mentre il ministro era l'avvocato Bonafede. Noi abbiamo dei tempi che sono talmente lunghi per cui nulla di utile arriva dal processo penale. La riforma cartabia si inserisce qui, tenta di inserirsi qua. Tenta di inserirsi qua, io credo, purtroppo e già, con un dato che ci deve dare qualche segnale di allarme. Il decreto legislativo 150 del 10 ottobre del 2022 avrebbe dovuto entrare in vigore il 1 novembre del 2022 ed invece arriva, il giorno prima dell'entrata in vigore, un decreto legge, il 162 del 2022, che differisce l'entrata in vigore di un paio di mesi e quindi entrerà in vigore il primo di gennaio o il 31 dicembre, adesso non ricordo esattamente quale sia la data, del 2023 o 2022, a seconda che si parli di gennaio o dicembre. Già su questo interviene qualche giudice che ha qualche perplessità su questo rinvio e manda gli atti in corte costituzionale perché forse questa attività di differimento non è coerente con i nostri principi costituzionali, ma questo purtroppo è poca cosa. Nel frattempo che cosa abbiamo? Abbiamo, ed è di ieri, uno schema di lecce di conversione del decreto legislativo che ha posticipato l'entrata in vigore della Cartabia che ci dà ulteriori cattive notizie. Quali sono queste ulteriori cattive notizie? Le ulteriori cattive notizie sono delle norme transitorie che posticiperanno nel tempo l'ingresso all'interno del nostro ordinamento di queste migliori, perlomeno nella prospettiva del legislatore, norme che dovrebbero incidere per una velocizzazione del processo. Tanto per dirne una, che è la prima che mi è rimasta in mente, la riforma Cartabia prevede un filtro per quell'udienza di cui parlavo prima, per quei processi di cui parlavo prima, per i quali c'è il 40% di assoluzione qua a Milano, la riforma Cartabia prevede che in quei processi ci dovrà essere un'udienza filtro in cui verrà valutato, la dico in maniera molto semplice ma tanto ci intendiamo e poi gli approfondimenti forse possono essere fatti se si ha più tempo, un'udienza filtro in cui si valuta se vi è una ragionevole previsione di condanna rispetto al materiale raccolto dal pubblico ministero, se questa ragionevole previsione di condanna non c'è, nell'udienza filtro si emette una sentenza di proscioglimento dell'imputato. Quindi c'è un passaggio intermedio prima della celebrazione del processo che scarta tutta una serie di vicende perché quello che ha raccolto il pubblico ministero non appare sufficiente per arrivare a una ragionevole previsione di condanna. Questa norma consentirebbe di sfoltire, se applicata con l'onestà intellettuale che io spero ci possa essere, molti dei processi e quindi molti di quei processi che avrebbero portato all'ossoluzione e che portano oggi alla soluzione. Dico ci vuole onestà intellettuale nel senso che poi vedremo come verrà maneggiata questa norma. Questa è una norma fondamentale perché è una norma che consentirebbe di scartare tante vicende perché queste non hanno le gambe per camminare e di concentrarsi invece su quelle dove si vuole avere un confronto e un contraddittorio all'interno del processo. Apro e chiudo una parentesi rapidissima. Il nostro processo, lo sappiamo tutti, è fatto con una prova raccolta prima dal pubblico ministero, non in contraddittorio con le parti, salvo qualche intervento parziale che le parti possono fare ma è un intervento comunque un po' mutilato perché noi possiamo fare delle investigazioni difensive ma non possiamo far tantissimo per esempio. I testimoni vengono sentiti a sommarie informazioni nel corso di indagini senza che l'avvocato possa fare le proprie domande. Arriviamo al processo e a quel punto nel processo possiamo invece saggiare la tenuta di questa prova col contraddittorio tra le parti. Se quest'udienza filtro funzionasse andrebbero a processo solo quelle vicende processuali in cui vi è una prova più piena e lì ci si confronterebbe per vedere se questa prova resiste anche all'intervento della difesa. Ulteriore parentesi è chiaro che se quest'intervento della difesa arriva a distanza di 7-8 anni è un intervento difficilissimo, cioè noi avvocati speriamo anche noi che il processo sia più rapido perché laddove uno si voglia difendere e voglia portare i propri testimoni o voglia far emergere ricordi diversi rispetto a quelli che il pubblico ministero ha fatto uscire si deve arrivare subito a quel processo perché se si arriva a distanza di tanto tempo il nostro testimone, anche il nostro testimone non ricorderà più nulla e il testimone del pubblico ministero gli saranno fatte ricordare solo le cose che aveva detto nel corso delle indagini e che sono cose che non passano attraverso il confronto con la difesa. E magari, io sono convinto che siano tutti in buona fede, ma magari se io ho una finalità e chiedo qualcosa a una persona, quella persona risponde in qualche modo secondando la mia finalità. Se quindi io ho una finalità di indagino, una finalità accusatoria, quello che raccolgo nel corso delle indagini può essere un po' spostato verso la tesi dell'accusa. Il contraddittorio serve per vedere realmente quello che è la ricostruzione dei fatti. Detto questo, la riforma è una riforma che prova in qualche modo a velocizzare, è necessario che questa velocizzazione passi attraverso un'interpretazione che riesca a rendere pieni i contenuti delle norme che sono state introdotte. Però, dicevo prima, quest'udienza filtro nel progetto di norme transitorie che potrebbero intervenire a dicembre di quest'anno, viene posticipata nella sua entrata in vigore di un altro anno, anno e mezzo, bene o male. Perché? Perché viene detto che si applicherà soltanto l'udienza filtro a quei decreti di citazione che saranno emessi dopo il primo gennaio del 2023, e quindi se i decreti di citazione sono emessi dopo il primo gennaio del 2023, vorrei dire che noi avremo delle udienze un anno dopo. Quindi stiamo ancora posticipando le entrate in vigore di queste norme che apperirebbero a essere virtuose. Ora, questa è la prima preoccupazione, è una riforma che si fa già fatica a farla partire e si fa fatica a farla partire perché manca una cosa, perché mancano le risorse, perché il differire l'entrata in vigore della riforma è legato alla mancanza di organizzazione e di risorse, di giudici, di impiegati amministrativi, di tutti coloro che dalla parte, diciamo, pubblica concorrono all'esercizio della giurisdizione. Cambiano le cose, non si è pronti per farlo, forse le risorse andranno distribuite in maniera diversa e quindi mandiamo le cose un po' in là. Sto impiegando tantissimo tempo e dico quattro cose velocemente perché non ho guardato l'orologio e quindi non vorrei rubare troppo tempo agli altri relatori. Che cos'ha di positivo la riforma? Certamente di positivo alla digitalizzazione del fascicolo. Non ha il collegamento telematico coi testimoni e quindi la possibilità di fare udienze per via telematica, questa è una mia convinzione, nel senso che quelle devono essere legate proprio a cose marginali, il processo penale si fa vedendo le persone in faccia perché per capire il senso delle dichiarazioni di un testimone e bisogna averlo davanti. Però la digitalizzazione è qualcosa di straordinariamente positivo, è però qualcosa che da sempre sarebbe dovuto arrivare. Io porto l'esperienza dell'avvocato perché forse, non so se chi ci ascolta siano solo avvocati e quindi sono inutili le cose che dico, ma anche altri magari sono i soggetti che ci sentono. Forse non si sa che noi avvocati andiamo nelle cancellerie dei tribunali, nelle segreterie dei pubblici ministeri e fino a tempi molto recenti, poi Milano un po' all'avanguardia forse rispetto a tanti altri posti, noi entriamo nelle cancellerie, paghiamo i diritti di copia, prendiamo il fascicolo, andiamo a fare le fotocopie una per una con delle fotocopiatrici che non funzionano, in coda e passiamo il tempo a fare questo tanto del nostro tempo. La digitalizzazione vuol dire poter avere con un click il fascicolo, potersi cambiare gli atti con un click, questo dovrebbe esserci, il Covid con tutte le cose negative che ci ha portato, ha portato una grande velocizzazione su questo aspetto solo perché non potevamo andare a fare le fotocopie, se no saremmo rimasti sempre lì a fare le fotocopie, però perlomeno ha portato una grande velocizzazione all'interno del processo penale e questo è importantissimo, però ci vuole una Ferrari come sistema sul quale si innesti questa digitalizzazione, deve essere qualcosa che funzioni bene, perché se gli applicativi sui quali gira questa informatizzazione sono degli applicativi che non rispondono alla loro esigenza, il problema diventa un ulteriore problema, noi abbiamo problemi a collegarci, abbiamo problemi ad ottenere effettivamente gli atti, abbiamo problemi di conformità tra il fascicolo che ci viene dato in maniera informatica e il dato cartaceo, qua è l'errore umano per carità, però queste sono cose che devono essere tutte superate perché la digitalizzazione del fascicolo è qualcosa di assolutamente positivo ma deve funzionare. Efficienza, l'efficienza certamente viene in qualche modo perseguita, la ragionevole durata viene in qualche modo perseguita da questa riforma, questa ragionevole durata passa proprio spostando le cose un po' più nell'ambito delle indagini preliminari con un giudizio più severo tra le notizie di reato che debbano andare a processo e quelle che invece debbano essere archiviate o debbano uscire dal circuito della giustizia penale o con l'udienza filtro di cui parlavo prima o con l'udienza preliminare, ecco quello che a noi preoccupa è che questa efficienza non sia efficientismo ma che questa efficienza passi comunque attraverso l'esercizio di tutte le garanzie e il riconoscimento di tutte le garanzie. Vi do una mia perplessità, si spostano le cose verso le indagini, si cerca anche di dare garanzia rendendo le indagini un luogo più sicuro anche per la persona sottoposta alle indagini e come? Facendo in modo che coloro che vengono sentiti nel corso delle indagini siano sentiti con una registrazione o una videoregistrazione di quello che loro dicono, il discorso che facevo prima in buona fede ma c'è un qualche rischio quando le persone vengono sentite in indagini che rispondano alla domanda suggestiva che può uscire da colui che interroga anche perché molto spesso colui che interroga magari è proprio un soggetto di polizia giudiziaria che ha una cultura della giurisdizione diversa da quella del pubblico ministero. Ecco ma se nel corso di quella audizione si prevede che vi sia una registrazione ma la riforma cartabia alla fine dice che questa registrazione deve essere richiesta dal diretto interessato e deve essere fatta sempre che siano disponibili gli apparati tecnici non ci sarà mai questa registrazione ma io vado a essere sentito come persona informata sui fatti sono un comune cittadino e chiedo che sia registrata la mia dichiarazione ma no e qui si è persa un'occasione straordinaria per dare garanzia alla fase delle indagini e bastava pochissimo bastava dire che invece la registrazione andasse fatta si è perso nel percorso questo e si è rimesso alla volontà del singolo. Si cerca di snellire diciamo il processo con una serie di strade alternative al procedimento che possono avere diciamo una loro positività c'è un ampliamento della messa alla prova c'è un ampliamento dell'irrilevanza del fatto c'è un ampliamento dei diritti alternativi queste sono tutte cose molto positive che arrivano attraverso questa riforma c'è anche una diciamo radicale riforma del sistema sanzionatorio e questo poi ne parleranno certamente altri lo accolgo con enorme favore perché non c'è più quella visione carcerocentrica che tanto non ci piace perché il carcere non rieduca ma anzi crea ulteriore marginazione sociale quindi l'arrivo di pene sostitutive semilibertà detenzione domiciliare lavori di pubblica utilità pene pecuniarie per una serie di condanne è qualcosa che non si può che accogliere con favore dal punto di vista del principio cambiamento radicale e rivoluzionario perché queste pene verranno applicate a metà del giudizio di cognizione quindi all'esito del processo di primo grado questo un po' di paura la fa l'avvocato sotto un certo profilo perché siamo in un momento in cui ancora saremo sorretti dalla presunzione di innocenza e quindi dobbiamo fare delle valutazioni complesse sull'accesso a queste pene sostitutive è un cambio anche qui di mentalità straordinario dobbiamo infilarci tutti all'interno di questa nuova visione perché forse questo consentirebbe però di vedere maggiormente insediata all'interno delle nostre aule la finalità una delle finalità che è quelle di portare alla rieducazione laddove le vicende siano delle vicende in cui non si è in qualche modo difendibile io partivo con la speranza che qualche elemento portato dalla riforma cartabia potesse farsi appunto che venissero sfoltiti tanti di quei dati giudiziari di quei processi che non si sarebbero dovuti celebrare e quindi si potesse avere anche una maggiore attenzione su quelli invece che verranno celebrati più andiamo avanti più vedo che viene differita in là più vedo che magari c'è anche qualche perplessità all'interno della stessa magistratura sull'interpretazione che deve essere data a certe norme con un rischio di sterilizzazione delle norme più garantiste che all'interno di questa riforma sono state portate più mi preoccupo invece per il fatto che questa riforma magari possa non portare effettivamente a quello che tutti noi spereremmo ci vuole un'applicazione io credo coraggiosa di queste nuove norme ci vorrebbero però anche tante cose in più che non sono arrivate ci vorrebbe proprio un cambiamento di rotta radicale che io ho l'idea che questa riforma cartabia non sia riuscita a portare all'interno del nostro ordinamento avendo anche portato delle sofferenze dei ristringimenti di garanzie e qualche volta e questo è quello che più mi dispiace questo accade nei confronti dei soggetti che più invece meriterebbero di essere garantiti chiudo con un dato il problema degli assenti e dei soggetti che sono difesi d'ufficio la dico in termini molto semplici citando solo un dato si è ritenuto che si debbano avere dei mandati specifici per poter impugnare le sentenze di condanna di primo grado e questi mandati specifici debbano intervenire dopo che vi è stata la sentenza diciamo di primo grado e questa norma incide sui più deboli, su quelli che noi assistiamo magari d'ufficio che non riusciamo a trovare perché il contatto diventa complicato che riusciamo a incontrare in tempi che non sono compatibili con quelli di questa nuova riforma e quindi alla fine quelli che pagheranno la conseguenza saranno quelli invece che hanno maggior bisogno di poter esercitare la loro difesa anche se sono coloro che magari delinquono di più ma sono quelli che hanno bisogno di una giustizia che sia più pacata e che riesca in qualche modo a incidere anche su di loro in termini maggiormente risocializzanti avrei tantissime cose da dire ma credo di aver impiegato già molto del tempo che mi avevate dato mi sbaglio sì sì no ha concluso il suo intervento tra l'altro portando davvero all'attenzione tantissimi dati tantissime riflessioni io notavo come i colleghi relatori annuissero praticamente ad ogni sua affermazione e possiamo dire magari ecco che la riforma Cartabia è una riforma dai buoni intenti ma appunto da un'applicazione difficile e complessa proprio a partire dalle risorse che mancano e dal problema della digitalizzazione che come ha sottolineato in realtà avrebbe dovuto insomma essere spinta stimolata dall'emergenza pandemica ma appunto tra l'intento e l'attuazione insomma c'è ancora un grande spazio da colmare e abbiamo parlato naturalmente ecco di tante cose soprattutto ecco della durata del processo io mi sono segnata insomma questa affermazione di come in realtà appunto la lungaggine questa durata infinita faccia male a tutti faccia male agli avvocati faccia male ai testimoni che nel frattempo appunto perdono naturalmente anche memoria di quello che è accaduto e naturalmente faccia male poi a chi il processo lo subisce e come ha sottolineato ecco magari lo inizia a 40 anni lo termina a 55 e che sia colpevole o innocente poco cambia nel senso che appunto la vita l'esistenza di questa persona è stata assegnata irrimediabilmente quindi insomma è necessario proprio mettere mano in modo radicale all'amministrazione della giustizia penale questi sono un po' i punti insomma che io ho segnato adesso passo innanzitutto ecco ringrazio l'avvocato Sogliani che so ecco che tra l'altro purtroppo ci deve abbandonare mi è arrivato un messaggio adesso dicendo che stanno sentendo un altro testimone nell'udienza e quindi io sto ancora qui un po' con voi se non benissimo benissimo allora potrà esatto ascoltare anche gli interventi dei colleghi ed eventualmente insomma aggiungere poi la sua chiosa finale e allora passiamo proprio al secondo intervento quello del professore Alessandro Provera che entrerà nello specifico proprio dell'ambito della riforma cartabia soffermandosi su riti speciali e impugnazioni prego a lei la parola sì grazie grazie per l'occasione di confronto soprattutto l'occasione per dedicarci ad un tema che sicuramente è entusiasmante per noi penalisti perché comunque è da salutare con favore l'introduzione di queste novità di queste riforme al sistema penale perché vanno appunto in una direzione giusta però permettetemi appunto una piccola battuta iniziale nel senso che potremmo dire il paziente è grave il malato è grave dove per paziente o malato che dir si voglia intendiamo il processo penale proprio ieri sera in altra occasione presentavamo un libro di due colleghi universitari amiti a Gialluz Jacopo della Torre che ha un titolo molto eloquente giustizia per nessuno libro che si concentra sui dati della giustizia penale e questi dati della giustizia penale sono davvero dei dati sconfortanti ma soprattutto danno l'idea della cronicità della malattia del sistema mi si consentano proprio due battute dal punto di vista storiografico già Guicciardini, Francesco Guicciardini, nelle sue opere sosteneva l'irragionevole durata del processo siamo addirittura in una fase di gran lunga anteriore rispetto alla formazione dello Stato Unitario Cesare Beccaria, visto che siamo a Milano, riteneva fondamentale che la sentenza giungesse a ridosso che giungesse in breve tempo rispetto alla commissione del fatto di reato perché solo questa sarebbe stata una giustizia utile Beccaria partiva appunto da un concetto che metteva assieme diritto ed economia chiaramente il grande filosofo e pensatore aveva formazione economicistica Detto questo, il problema è che i dati rispecchiano una giustizia penale invece tutt'altro che efficiente Mi limito solamente ad alcuni aspetti che però sono centrali nel dibattito Considerate il fatto che per esempio per un processo d'appello e si fa riferimento alla fase del processo d'appello Cioè dalla sentenza di primo grado, diciamo dall'emissione della sentenza di primo grado fino all'emissione della sentenza di secondo grado passano in media in Italia più di 800 giorni 800 giorni Per chi non fosse molto avvezzo al processo penale occorrerebbe ricordare che la maggior parte però dei processi in appello dura l'arco di una giornata perché si va in udienza e il processo d'appello dura un giorno poi chiaro, certo, ci sono dei processi molto complessi che anche in appello durano diverse udienze però la realtà, la quotidianità, sono dei processi che si esauriscono nel lasso di tempo tra il giorno e la notte Però ci vogliono 800 giorni per celebrare la fase dal primo grado alla fine del secondo grado quindi capite già da questo la disfunzionalità del sistema Altro dato abbastanza significativo, anzi direi di nuovo centrale il dato rispetto ai riti alternativi Innanzitutto per quanto riguarda i processi che transitano dall'udienza preliminare quindi potremmo dire in modo a tecnico i processi per rati più gravi solamente il 5% di questi processi viene definito con riti alternativi quindi viene definito davanti al GUP con un patteggiamento o con un giudizio abbreviato La percentuale varia in aumento rispetto appunto ai procedimenti per citazione diretta a giudizio arriviamo al 15% Ora, questi dati potrebbero sembrare neutri ad un osservatore non ad uso alle problematiche penali in realtà sono dei dati allarmanti perché il codice del 1988, il nostro codice di rito, il nostro codice tuttora vigente ha un presupposto esplicito che veniva già esplicitato nella relazione al progetto di legge del nuovo codice di rito dell'88 che è questo, e cioè che la maggior parte o comunque un numero significativo di procedimenti deve essere definito con rito alternativo perché è impossibile, strutturalmente impossibile, che tutti i procedimenti passino dal dibattimento per quale motivo questo? perché il dibattimento introdotto con il codice di rito, questo non bisogna certo spiegarlo agli avvocati è un dibattimento improntato al concetto, al principio dell'accusatorietà cioè quindi è un processo accusatorio è un processo dunque dove la prova si forma nel contraddittorio tra le parti e questo ha una durata di tempo chiaramente diversa rispetto ad un rito inquisitorio quindi il presupposto, come dicevano già molti commentatori prima addirittura delle entrate in vigore del codice si fa riferimento, si può fare riferimento alle parole di un grande processualista milanese il professor Angelo Giarda che già lo sottolineava nel 1987 e cioè che ci fosse una centralità dei riti alternativi, una necessità dei riti alternativi ecco questa centralità non è avvenuta, non si è realizzata dal 1988 in poi e questo ha portato inesorabilmente potremmo dire ad ingolfare ancora di più la giustizia penale di ingolfare ancora di più il dibattimento che dovrebbe essere lo strumento principe per quei reati dove effettivamente serve l'assunzione della prova in contraddittorio, dove c'è una possibilità di difesa questa è la situazione, una situazione come dire abbastanza allarmante dunque si capisce la razio, si capisce la filosofia ispiratrice della riforma cartabia che è quella già ricordata diverse volte in diversi contesti e cioè di raggiungere questo ambizioso, assai ambizioso traguardo della riduzione dei tempi processuali del 25% entro il 2026 la presentatrice mi chiedeva prima dell'inizio di questo incontro se questo obiettivo fosse verosimile o fosse utopistico ora è difficile dirlo su due piedi, difficile dirlo soprattutto con una valutazione prognostica perché è chiaro che come insegna la scienza della legislazione ogni riforma deve essere poi valutata in concreto sulla base dei dati non si può fare una valutazione in laboratorio ex ante è sicuramente un obiettivo ambizioso obiettivo ambizioso ma necessario necessario soprattutto perché occorre ricordarlo giustamente la presentatrice lo ricordava nel suo intervento introduttivo questo obiettivo è fondamentale non solo per ottenere i fondi destinati dal PNRR riguardo alla riforma della giustizia penale perché la riforma della giustizia penale è elemento essenziale di tutto il PNRR questo è un aspetto che deve essere ricordato quindi è un obiettivo essenziale del piano nazionale di resistenza e resilienza di ripresa e resilienza fatta questa premessa ho apprezzato molto quello che diceva l'avvocato Sogliani perché se da un lato esiste una necessità di celerità del processo di accelerazione dei tempi processuali ricordiamoci sempre che celerità non vuol dire efficientismo non vuol dire efficientismo aziendalista per quale motivo questo? perché il processo penale deve mantenere questo è giusto ricordarlo anche se potrebbe sembrare un'affermazione quasi scontata soprattutto per un pubblico di avvocati il processo penale deve mantenere inalterata la garanzia, le garanzie che vengono date che vengono attribuite dall'ordinamento all'imputato e a tutti i soggetti facenti parte del processo quindi efficienza non vuol dire velocità vuol dire velocità adeguata per il raggiungimento delle finalità del processo penale quindi è un concetto molto più vasto è un concetto molto più articolato ed è un concetto che è strettamente legato ai principi costituzionali mi limito a dire solamente quali sono tra questi quelli principali che non possono essere dimenticati nella prospettiva dell'efficienza in primis i principi del giusto processo dell'articolo 111 per cui appunto l'unione delle camere penali ha fatto storicamente una battaglia importantissima per il nostro ordinamento il principio di legalità articolo 25,2 se ci spostiamo sul versante sostanziale il principio di colpevolezza articolo 27 e soprattutto non dimentichiamocelo anche il principio di necessaria finalità della pena cioè di risocializzazione 27,3 della Costituzione quindi ricordiamoci sempre che la velocità, la celerità non può andare a discapito di questi principi fondamentali anzi tutte le riforme devono essere valutate in rapporto alla loro capacità di soddisfare questi requisiti essenziali del processo e del nostro ordinamento fatta questa premessa passiamo ai due temi che abbiamo scelto di trattare per quanto riguarda questo intervento che sono i temi dei riti alternativi e delle impugnazioni ora pensando a questi due temi assieme all'avvocato Baccaredda Boi che oggi sostituisco che avrebbe dovuto prendere parte al convegno ci siamo subito accorti di questa sicuramente caratteristica positiva della riforma cartabia di andare ad incidere su due snodi fondamentali del processo ossia i riti alternativi e le impugnazioni ma ci siamo subito accorti anche di un altro aspetto cioè di una certa timidezza della riforma su questi due versanti vado più nel dettaglio a vedere quali sono le innovazioni della riforma cartabia del decreto legislativo 150 del 2022 ma soprattutto permettetemi anche qualche rilievo critico rispetto a queste riforme partiamo dai riti alternativi allora per quanto riguarda il patteggiamento sicuramente è da salutare con favore una prima disposizione e cioè il fatto che la sentenza di patteggiamento non possa essere utilizzata in altri procedimenti civili senza distinguere se risarcitori o meno amministrativi contabili e disciplinari questa potrebbe sembrare una modifica di poco conto io invece la saluto come una modifica fondamentale perché il problema vero è che e lo sanno benissimo gli avvocati che sovente si sconsiglia al proprio assistito di accedere al rito del patteggiamento proprio perché la sentenza diventa definitiva in un batter d'occhio potremmo dire diventa definitiva in brevissimo tempo e soprattutto questa sentenza fa stato fa stato fino ad adesso praticamente fino a quando entrerà in vigore la riforma per quanto riguarda tutti gli altri rami dell'ordinamento certo i processi civili per esempio i processi civili risarcitori non per quanto riguarda gli altri processi civili però è sicuramente una zavorra per quanto riguarda il soggetto che ha fatto accesso al rito del patteggiamento per quale motivo? perché con una sentenza che ricordiamolo non accerta il fatto che è frutto di un accordo tra pubblico ministero e imputato dove il giudice ha un ruolo possiamo dire abbastanza notarile da un certo punto di vista perdonatemi l'espressione ecco questa sentenza quindi senza accertamento un giudizio accognitivo come la dottrina ha giustamente sottolineato fa stato cioè quindi è utilizzabile a tutti gli effetti come prova della responsabilità negli altri procedimenti ed è ovvio che venga sconsigliato di accedere a questo rito proprio per questo effetto pregiudizievole tra l'altro faccio notare una cosa per esempio nell'ambito dei procedimenti per quanto riguarda il patteggiamento la norma diceva fa stato per quanto riguarda i giudizi civili risarcitori quindi escludendo gli altri tipi di giudizio la giurisprudenza civile ci ha abituati però ad un allargamento dell'utilizzabilità del patteggiamento perché si diceva si dice in queste sentenze molto preoccupanti ma la sentenza di patteggiamento può essere valutata anche se non fa stato come un fatto beh senza dubbio può essere valutata come un fatto però capite che la differenza è molto sottile è molto sottile quindi può capitare ed è capitato che alcuni soggetti che avevano patteggiato si sono trovati poi un giudice civile che ha utilizzato la sentenza di patteggiamento come elemento di valutazione perché è un fatto intervenuto nella vita di un soggetto capite bene che c'è un allargamento quasi contra legge ma a mio parere quindi è da salutare con favore questa disposizione della legge cartabia anche in termini di efficienza badate bene perché è chiaro che se si vuole spingere sull'acceleratore riguardo i riti alternativi è ovvio che lacce e lacciuoli che impediscono una scelta di accedere al rito alternativo devono essere eliminate sicuramente da salutare con favore è un'altra disposizione che in questo caso è forse mimetica rispetto alla giurisprudenza attuale che è la disposizione che prevede che l'imputato e il pubblico ministero si possano mettere d'accordo anche sempre nell'ambito appunto del patteggiamento sull'applicazione della confisca facoltativa una sentenza importante di qualche anno fa delle sezioni unite già affermava che appunto l'imputato e il pubblico ministero potessero accordarsi sia sull'applicazione della confisca facoltativa sia per quanto riguarda il quantum e i beni da soggettare appunto a confisca obbligatoria quindi in questo caso la riforma cartabia recepisce cristallizza un orientamento che è un orientamento già giurisprudenziale poi senza dubbio è da salutare con favore perché meglio adesso dico una banalità però è sempre meglio che appunto lo dica la legge piuttosto che sia solamente un orientamento giurisprudenziale che può mutare di giorno in giorno e anche questo è da salutare con favore perché è chiaro che permette appunto al soggetto di definire globalmente complessivamente la sua posizione penale tra l'altro c'è poi una conseguenza sul versante delle impugnazioni perché nel momento in cui si accordano le parti a riguardo appunto anche alla confisca e anche alle pene accessorie è limitatissimo appunto il potere ad appello e il giudice sostanzialmente è vincolato appunto dall'accordo dalle parti quindi c'è un aspetto di maggiore efficienza proprio perché c'è una conseguenziale limitazione del potere di impugnazione e quindi appunto di protrazione del procedimento negli altri gradi di giudizio quindi questo finora possiamo dire è lo scenario positivo per quanto riguarda il patteggiamento le innovazioni positive mi limito a dire qualche cosa critica riguardo a quello che non si è fatto cioè riguardo alla timidezza di alcune scelte nel senso che non si è per esempio deciso di incidere profondamente sui requisiti per accedere al patteggiamento che vengono solitamente richiesti nella prassi ad esempio il soddisfacimento delle esigenze civilistiche della persona offesa molto spesso nella prassi e questo è un non detto ma lo si vede nelle aule di giustizia nei corridoi del tribunale si dice certo ci accordiamo per il patteggiamento però prima deve essere ristorata la persona offesa ecco questo molte volte non garantisce la possibilità di accesso al rito perché per esempio non c'è la disponibilità totale non c'è la disponibilità materiale di procedere appunto al risarcimento sappiamo che il patteggiamento in alcuni casi è subordinato a un certo determinato ristoro e questo avviene anche per legge in alcuni casi come per esempio per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione ecco su questo versante non si è inciso e quindi esistono ancora delle limitazioni delle preclusioni per quanto riguarda l'accesso al rito come non si è inciso riguardo alla pena che permette l'accesso al rito del patteggiamento si poteva in qualche modo ritoccare questo aspetto perché ritoccando questo aspetto in rialzo cioè stabilendo una pena più alta per accedere appunto al rito si poteva appunto rendere più attraente la scelta difensiva ricordiamoci però sempre che non si può neanche spingere più di tanto sull'acceleratore per quanto riguarda il patteggiamento perché di fatto si favorisce e si dà una preferenza ad un rito che è un rito come abbiamo detto prima a cognitivo passiamo adesso al secondo rito speciale che è stato modificato mi limiterò solamente a patteggiamento abbreviato per ragioni di tempo anche perché qualcosa è stato detto dall'avvocato Soliani per prima per quanto riguarda altri aspetti come per esempio la messa alla prova nell'abbreviato nel giudizio abbreviato si stabilisce soprattutto una cosa dal mio punto di vista molto interessante che tra l'altro proviene dalla commissione Lattanzi una delle commissioni preparatorie alla riforma Cartabia che è la riduzione di un ulteriore sesto della pena nel caso di rinuncia all'impugnazione ora da questo punto di vista il meccanismo non è e qua vengo subito ad un rilievo critico non è sicuramente molto lineare nel senso che questa riduzione di pena di un sesto evidentemente non può essere data concessa dal giudice di cognizione ma dal giudice di esecuzione e questo è stabilito espressamente dalla norma la norma non dice niente riguardo però alla modalità con cui viene concessa questa ulteriore riduzione è necessariamente da considerare e da ritenere che questa riduzione debba avvenire d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione che tra l'altro secondo le regole processuali è lo stesso giudice che ha emesso appunto la sentenza nel giudizio abbreviato chiaramente secondo le regole che individuano il giudice dell'esecuzione perché dico che è necessario che ciò avvenga d'ufficio innanzitutto perché non si stabilisce un procedimento espressamente da parte della riforma in secondo luogo perché questo sì che è efficiente perché se invece ritenessimo che servisse per esempio un'istanza da parte del difensore per richiedere appunto la riduzione della pena questo comporterebbe un aggravio irrazionale del sistema quindi riduzione d'ufficio però da parte del giudice dell'esecuzione chiaramente questo è un incentivo ulteriore per quanto riguarda la scelta del rito ci sono delle problematicità che non possiamo nascondere in questa sede la prima problematicità è che la scelta di rinuncia all'impugnazione è una scelta senza dubbio molto difficile per quanto riguarda il difensore molto difficile perché nella prassi è noto che è possibile ottenere è possibile conseguire una riduzione di pena in appello e soprattutto è difficile oltre appunto a questa come dire aspetto che sicuramente non è marginale e poi molto difficile fare questa valutazione soprattutto perché c'è sempre la prospettiva per quanto riguarda il giudizio di appello di un ribaltamento del giudizio di responsabilità e quindi è sicuramente qualcosa di molto delicato da gestire soprattutto da gestire anche nel rapporto con il cliente detto questo c'è poi un aspetto sicuramente non secondario che è quello appunto dell'influenza di questa riduzione ulteriore di un sesto dipende tanto chiaramente dalla pena base da cui si parte evidentemente perché appunto poi la riduzione può essere in qualche modo cauterizzata dalla pena base che viene scelta appunto nella commisurazione nei sensi dell'articolo 133 però questa sicuramente è un'innovazione che potrebbe spingere molto di più a scegliere il rito alternativo del giudizio abbreviato detto questo forse però in conclusione su questo primo aspetto possiamo comunque dire che queste innovazioni seppur significative non sono innovazioni che a mio parere potranno portare per lo meno nel giro di poco tempo ad un aumento della scelta dei riti alternativi a aumento che abbiamo detto in apertura essere così essenziale per la vita stessa del processo accusatorio del sistema accusatorio passando velocissimamente al secondo aspetto che volevo trattare per quanto riguarda il mio intervento e cioè quello delle impugnazioni qui come è stato ben detto per esempio nel libro di Mitia Jaluz le riforme apportate dal decreto legislativo 150 del 2002 sono delle limature potremmo dire non sono delle riforme così penetranti come forse ci sarebbe aspettati da parte del legislatore da segnalare per esempio la estensione della possibilità di accedere al concordato in appello quindi una modifica delle condizioni d'accesso senza limitazioni esistenti invece attualmente vi è poi appunto la modifica relativa all'ammissibilità dell'impugnazione che chiaramente ha una finalità deflattiva anche questa tendenzialmente appunto è una riforma abbastanza mimetica della realtà giudiziaria perché sappiamo appunto quali sono gli orientamenti delle varie corti d'appello già da diverso tempo riguardo all'ammissibilità dell'atto di impugnazione questo nella finalità appunto di sgravare il processo d'appello che è un grave malato del nostro sistema perché abbiamo visto quali sono i dati relativi alla durata della fase d'appello cioè più di 800 giorni chiaramente questa è una media ci sono corti d'appello che ci mettono molto di più di 800 giorni per celebrarlo sappiamo anche com'è la geografia giudiziaria da questo punto di vista nel senso che il nord ovest è molto virtuoso o più virtuoso e poi a scalare appunto tutte le altre parti d'Italia però forse aggiungiamo una cosa per esempio appunto la non possibilità di appello per quanto riguarda appunto la sentenza che condanna appunto appena sostitutiva e questo poi verrà detto dalla collega il professor Mazzacuva che ha un altro aspetto molto importante per quanto riguarda appunto la deflazione del giudizio d'appello sul punto però e qui chiudo sono veramente delle limature queste apportate alla disciplina delle impugnazioni e non si è invece preso di petto potremmo dire o comunque non si è affrontato uno dei problemi annosi e soprattutto uno dei problemi maggiormente dibattuti nella penalistica degli ultimi trent'anni ma forse non solo degli ultimi trent'anni che è quello della limitazione incisiva del potere di impugnazione delle parti perché questo sì che è il tema centrale sapete che appunto vi era stata una riforma poco meno di vent'anni fa che ha subito la censura appunto a livello costituzionale da quel momento il dibattito non si è mai sopito non si è raggiunta mai un'intesa politica su questo punto però effettivamente se si vuole deflazionare l'appello bisognerebbe appunto incidere o comunque riflettere anche su questa possibilità su questa materia che però non viene trattata se non in questi stretti limiti che ho detto dal decreto legislativo 150 del 2002 ultime due annotazioni che però sono due annotazioni conclusive è chiaro che sia però come dicevo inizialmente da salutare con favore la riforma cartabia da salutare con favore il lavoro che c'è stato all'acre da parte delle commissioni che hanno preparato la riforma cartabia è stato un bellissimo esempio tra l'altro di collaborazione tra i vari operatori della giustizia l'accademia la magistratura l'avvocatura certo ci sono appunto degli istituti che riflettono maggiormente la prospettiva accademica altre appunto della magistratura altre dell'avvocatura ma chiaramente sono sempre scelte di compromesso come tutte le scelte che vengono operate a livello legislativo quindi salutare con favore perché è sicuramente un'innovazione culturale enorme e soprattutto come diceva l'avvocato Sogliani che supera la visione carcerocentrica qua spendo una parola davvero conclusiva anche se non è il tema del mio intervento perché credo molto in quello che sto dicendo penso sono convinto che un sistema liberale democratico penale non possa essere carcerocentrico perché il carcere non rieduca come è stato ben detto bisogna salutare con favore anche l'introduzione davvero questa storica davvero rivoluzionaria della giustizia riparativa nel sistema penale certo c'erano state delle timide aperture alla giustizia riparativa già da parte di alcuni istituti 162 terra per esempio ma poi appiattitosi nella prassi su una valutazione esclusivamente dell'adeguatezza del risarcimento questa introduzione della giustizia riparativa è fondamentale sia in ottica deflattiva sicuramente perché ci sono degli aspetti importanti come per esempio quello della remissione di querela a fronte dell'esito positivo del processo ma soprattutto in chiave di perseguimento degli obiettivi dell'ordinamento primo fra tutti quello di risocializzazione di cui è l'articolo 27 della costituzione perché la giustizia riparativa persegue effettivamente ed efficacemente questo risultato che ahimè nel processo penale molto spesso non si riesce ad ottenere perché è constatazione consueta da parte degli avvocati da parte di qualsiasi operatore della giustizia che le parti del processo rimangano scontente dell'esito del processo perché non riescano a trovare non riescono a trovare giustizia all'interno di esso la riforma cartabia va nella giusta direzione non bisogna dare però l'idea e questo spetta ad accademici magistrati e avvocati e soprattutto anche alle associazioni tra avvocati non bisogna dare l'idea che il cantiere giustizia però sia un cantiere giustizia con fine lavori questa fine lavori non c'è stata con la riforma cartabia bisogna continuare a lavorare per quanto riguarda il cantiere giustizia ma nella direzione giusta direzione giusta che non è quella della pan penalizzazione ma è quella appunto della deflazione del sistema penale e soprattutto che il sistema penale abbia la capacità di perseguire in concreto i suoi obiettivi che sono gli obiettivi costituzionalmente garantiti dalla nostra carta fondamentale grazie grazie a lei professore Provera io cercherò insomma di fare una sintesi proprio partendo dalla fine del suo intervento dove appunto sottolinea come i lavori il cartello lavori non sia un cartello di chiusura delle operazioni ma anzi che i lavori siano appena iniziati e che appunto il problema della giustizia penale e dell'anche ragionevole durata del processo come sottolineava invece all'inizio dell'intervento sia un argomento di cui si dibatte in realtà da secoli e ho apprezzato molto ecco la sua citazione di autori quali Guicciardini e Cesare Beccaria che lo ricordiamo ritroviamo all'interno proprio anche dei programmi scolastici e non solo appunto all'interno della giustizia dell'argomento della giustizia ma all'interno di letteratura e filosofia perché ecco la parola giustizia non è un qualcosa che riguarda solamente gli specialisti del settore ma è una diciamo una parola chiave insomma della società ed è una parola rispetto a cui si sviluppa anche una riflessione profonda una delle parole più belle insomma della filosofia che potremmo tranquillamente insomma mettere vicino ad altre parole come bellezza come verità ecco giustizia è una di quelle parole che ha un peso specifico insomma veramente enorme e sulla quale è giusto continuare a riflettere poi ecco naturalmente addentrandoci come abbiamo fatto nel merito della riforma Cartabia certamente con rispetto magari all'intervento dell'avvocato Sogliani qualche diciamo ombra in più è emersa perché come ha sottolineato in realtà questo è un tentativo di riforma ma tanti passi la direzione giusta ma dei passi ecco migliorativi vanno ancora apportati è importante però partire ecco che questo sia un punto di partenza dal quale poi migliorare e quindi arriviamo al terzo e ultimo intervento quello del professor Mazzacuva in cui ecco parleremo appunto dell'efficienza del sistema sanzionatorio penale considerando soprattutto le prospettive di riforma ad opera della legge Cartabia in tema di pene pecuniarie sanzioni sostitutive disciplina della punibilità procedibilità di alcuni reati a lei la parola grazie mille ringrazio anzitutto le fonti per avermi concesso la possibilità di partecipare a questo bellissimo dialogo sulle prospettive di riforma nell'ottica di efficienza della giustizia penale efficienza della giustizia penale che dipende evidentemente da questioni aspetti profili processuali e quindi da necessità di modifiche sul piano processuale come è stato detto da chi mi ha preceduto in maniera molto puntuale ma evidentemente dipende anche impone anche una revisione sul piano della disciplina sostanziale lo ha toccato il collega Provera nella conclusione del suo intervento questo tema con particolare riferimento alla giustizia riparativa io mi soffermerò per l'appunto su altri aspetti a cominciare da quello della deflazione sostanziale della punibilità dell'ampiezza dell'intervento penale perché è evidente che se la macchina è ingolfata ciò dipende anche dall'eccessiva ampiezza attuale dell'intervento penale e la scelta del legislatore di reprimere certi fenomeni di ampliare la punibilità per certi fenomeni non ha un costo nullo non è a costo zero è questo che bisognerebbe sempre considerare spesso le leggi che introducono nove reati o ampiano fatti specie esistenti contengono la famosa clausola di invarianza finanziaria come se ciò non costasse nulla in effetti il legislatore a volte la politica parla di questi temi come se non avessero un costo invece bisognerebbe sempre tenere conto che anche se non misurabile difficilmente misurabile per questo queste clausole di invarianza finanziaria tutte queste decisioni tutte le forme di espansione del diritto penale hanno evidentemente un costo si riflettono sull'efficienza del sistema perché evidentemente il sistema processuale non consente di affrontare questi numeri certi numeri io sono stato qualche anno magistrato giudice penale posso dire si diceva il giudice l'attuale stato della giustizia penale fa male alle parti fa male ai testimoni fa male anche ai giudici che in realtà non riescono a svolgere nel modo giusto il loro lavoro di fronte a questi tempi e a questi numeri e così abbiamo tutti quei colli di bottiglia di cui si parlava in fase di indagine in fase di appello con una giustizia penale che quindi diventa quel punto casuale nella selezione dei fatti punibili la prescrizione poi elimina una serie di procedimenti in maniera spesso non sempre ma a volte effettivamente inevitabilmente casuale mentre un intervento penale più selettivo già nella disciplina sostanziale consentirebbe anche al processo alla macchina processuale di affrontare appunto quei fatti che effettivamente meritano questa considerazione e in questa direzione è andata effettivamente la riforma cartabia certo non veniva auspicato da molti non nella direzione della depenalizzazione in astratto bensì appunto nella direzione della cosiddetta depenalizzazione in concreto attraverso un'estensione di forme di non punibilità o di non procedibilità evidentemente il riferimento è alla procedibilità querela tutto sommato devo dire è vero depenalizzazione astratta serve sempre la via maestra però appunto proprio la mia esperienza breve brevissima esperienza di giudice mi ha fatto mi ha reso convinto che è una strada forse a volte sopravvalutata il ruolo monocratico si compone di una serie di reati la maggior parte dei quali rispetto alla maggior parte dei quali è difficile immaginare una depenalizzazione penso ai furti tra tutti e alcune depenalizzazioni imporrebbero una scelta politica forte ovviamente i fatti relativi in materia di stupefacenti magari depenalizzazione dei fatti relativi a droga leggere però ecco ci sono nel nostro ordinamento tantissime figure di reato che certamente meriterebbero di essere depenalizzate ma non sono effettivamente quelle che impegnano in maniera significativa il ruolo del giudice monocratico ovviamente non quello del giudice collegiale e quindi in realtà io vedo con favore la diversa scelta fatta dalla riforma cartabia che è quella di favorire invece depenalizzazione in concreto e quindi considerare che certamente in astratto certe figure il furto tra tutti meritano una qualificazione penalistica e però poi queste figure possono come dire essere riferite a fatti del tutto esigui assolutamente esigui e quindi potenziare secondo me è una buona strada quella di potenziare quegli istituti che rendono in concreto non punibili questi fatti a cominciare evidentemente da un istituto che conosciamo da qualche anno che si cerca di rinforzare che è quella della non punibilità per la particolare tenuità del fatto lì trovo senza dubbio opportuno l'intervento di riforma la commissione latanzi lo auspicava addirittura individuando il minimo in tre anni la soglia dei reati che possono rientrare nell'applicazione di questa norma che avrebbe effettivamente consentito a questa norma anche ad esempio di applicarsi ai furti pluriaggravati il minimo la pena tre anni perché sono fenomeni che in astratto sono appunto furti caratterizzati dalla presenza di più di un aggravante ma noi sappiamo che sono anche episodi del tutto esigui del tutto bagatellare un normale furto in supermercato di un bene di un valore del tutto esiguo può essere pluriaggravato per circostanze diciamo del caso concreto perché era esposto sul bancone perché il soggetto ha strappato la confezione o l'antitaccheggio e quindi effettivamente ovviamente è difficile immaginare la depenalizzazione dei furti o di furti aggravati addirittura e però questi istituti in effetti favoriscono una maggiore diciamo selezione in concreto dei fatti meritevoli di attenzioni e certo poi a fronte dell'espansione diciamo generale di questa norma si è assistito all'introduzione di una serie di eccezioni puntuali figure di reato che in realtà hanno un minimo molto elevato di sei anni ma che sono considerate che nella forma tentata potrebbero effettivamente arrivare a quei famosi due anni di reclusione nel minimo e allora il legislatore si sente di escludere in assoluto l'operatività di questo istituto direi per ragioni più comunicative quasi politiche perché è passato negli scorsi anni il messaggio che l'articolo 131b implicasse una sorta di depenalizzazione totale in astratto ricordo magliette di esponenti politici e così via e poteva passare il messaggio ecco che il tentativo di corruzione il tentativo di concussione fosse con questa riforma depenalizzata sappiamo che ovviamente non ci sarebbe stato quel rischio però il legislatore si è sentito di cautelarsi in questa maniera attraverso ecco si assiste a una sorta di bilanciamento espansione generale di esclusione di inserimento di esclusioni tassative però senza dubbio ecco sebbene poi appunto la misura non sia stata quella di tre anni ma quella di due anni almeno mi sento di accogliere con favore questa riforma e soprattutto ecco il riferimento al minimo si dice spesso in accademia ma penso sia anche una cosa ben nota ovviamente ai professionisti che la vera gravità dei reati è data dal minimo edittale non tanto dal massimo che a volte viene alzato per ragioni simbolico per ragioni per rendere applicabili certi istituti processuali o per allungare i termini di prescrizioni ma è noto che la vera misura della gravità dei reati è data dal minimo e allora trovo del tutto logico che la norma che si fa carico di selezionare ulteriormente i fatti di minima entità faccia riferimento al minimo edittale d'altra parte la Corte Costituzionale l'aveva in qualche misura anticipato con quella sentenza sull'applicabilità dell'articolo 131 bis alle ricettazioni di lieve entità vedo anche con favore anche se è stato oggetto di discussioni l'espansione della procedibilità a querela a molti reati contro la persona e contro il patrimonio certamente non si è attuata una depenalizzazione astratto ma tutto sommato non mi sento di condividere alcune critiche che trovo eccessive rispetto all'utilizzo della procedibilità a querela anche in chiave deflattiva certo è molto soggettivo l'argomento secondo cui se la scelta è rimessa al privato forse l'interesse pubblico non è così forte non giustifica la repressione di certi fenomeni si potrebbe lasciare non so la considerazione di questi fenomeni alla giustizia civile ai nuovi illeciti civili in realtà penso che la volontà del privato possa come dire essere un elemento mediato un elemento che contribuisce alla considerazione di interesse pubblico e sia da vedere con favore la rimessione alle parti del conflitto da un lato sempre in ottica appunto meramente deflattiva penso sempre ai furti in supermercato ecco nella nuova procedibilità a querela scelta coraggiosa potrebbero rientrare quando entrerà in vigore anche i furti più reaggravati e allora immagino politiche aziendali di grandi catene che decidono a quel punto cosa no? su quali fatti sporgere querele e quali no perché appunto sempre da giudice ho visto testimoni assolutamente disinteressati testimoni in questi processi assolutamente disinteressati a fatti avvenuti tre o quattro anni prima anzi la cui presenza quasi danneggiava di più l'azienda rispetto no? al fatto subito e quindi anche in questo modo si potrebbero credo poi bisognerà misurare ovviamente il risultato di questa riforma ma credo che le prospettive siano positive siano favorevoli e peraltro la precedibilità a querela favorisce si diceva i meccanismi di giustizia riparativa favorisce appunto la conciliazione tra le parti è vero utilizzando l'arma della remissione della querela secondo alcuni in maniera eccessiva ma senza dubbio rimette appunto ai privati il conflitto favorisce anche laddove non ci sia la remissione della querela l'applicazione dell'articolo 162 ter che veniva nominato e quindi ha tutta una serie di ricadute che io vedo assolutamente favorevoli penso che la riforma si sia mossa nella direzione giusta da questo punto di vista l'altro aspetto che mi interessava toccare l'altro aspetto evidentemente centrale già stato detto è la necessità di riforma del sistema sanzionatorio spesso irrazionale spesso disfunzionale e ancora per molti versi carcero centrico anche in questo caso certamente si poteva anche fare di più ma penso che la direzione sia stata giusta quella della riforma di valorizzare da un lato le sanzioni sostitutive su cui tornerò in conclusione del mio intervento e dall'altro anche quella di potenziare le pene pecuniare ecco le pene pecuniare è un vecchio tema è anche noto tra noi penalisti è meno noto però l'opinione pubblica il fatto che le pene pecuniare non funzionino assolutamente si parla tanto di certezza della pena facendo sempre riferimento alla pena detentiva e nessuno si interessa del fatto anche a livello politico che non esista certezza della pena pecuniare i tassi di riscossione sono all'1% citava l'ex ministra Cartabia al recento convegno di professori di diritto penale tassi bassissimi se comparati al 90% della Germania si parla di più di un miliardo di euro di perdita dello Stato ogni anno dalla mancata riscossione delle pene pecuniare e quindi tutto sommato vedo con favore il fatto che finalmente la legge il legislatore si sia occupato di questo problema tentando di migliorare proprio da un punto di vista pratico efficientistico il sistema di riscossione non si dovrebbe più passare dal concessionario dal pignoramento prima di passare alla conversione a parte del magistrato di sorveglianza c'è un termine ora di 90 giorni e poi sarà il magistrato di sorveglianza a valutare il problema dell'insolvibilità e a disporre eventualmente la conversione si dovrebbe saltare quel passaggio che comportava enormi ritardi cioè quello del passaggio al concessionario per riscossione con il pignoramento che ovviamente provvedeva in tempi lunghissimi con difetti di comunicazione con la magistratura che nella grandissima la stragrande maggior parte dei casi determinava la prescrizione decennale della pene pecuniare da qui la totale ineffettività di questa sanzione su cui invece si potrebbe investire parliamo di cifre notevoli in un'epoca in cui il tema delle entrate non è certamente di poco conto e una volta aggiustato valorizzato sistemato il tema della riscossione si potrebbe anche pensare di dare più spazio alle pene pecuniarie appunto oggi oggi sarebbe poco proponibile finché non si sistema il problema del tasso di riscossione ma una volta reso più efficiente questo sistema si potrebbe anche pensare a una valorizzazione della pena pecuniaria come pena principale come pena alternativa e non non congiunta non non cumulativa alla pena detentiva si potrebbe immaginare che molti fenomeni anche i fenomeni delittuosi potrebbero trovare l'unica risposta la principale risposta nella pena pecuniaria anche rivedendo al rialzo i limiti edittali noi sappiamo che dove il legislatore è intervenuto in certi ambiti abbiamo pene pecuniare draconiane e però in altri ambiti abbiamo ancora pene risibili il minimo per la truffa è 51 euro se non ricordo male è chiaro che sono pene che fanno sorridere invece una volta potenziate si potrebbe pensare anche di renderle maggiormente deterrenti in un certo senso maggiormente rilevanti si dice non sospendibili condizionalmente e in effetti è una tesi che mi sento anche di condividerla la sospensione condizionale nasce pensata come contrasto alle pene detentive detentive brevi e poi c'è il tema delle quote giornaliere era stato proposto da commissione anzi non recepito al legislatore quello forse non incide più di tanto sulla come dire sull'effettività della pena pecuniare non incide evidentemente sulla riscossione incide sulla trasparenza del meccanismo di commisurazione sull'eguaglianza dell'applicazione delle pene pecuniare sarebbe sicuramente una una riforma da salutare con favore la riforma cartabia poi non l'ha recepita servirà a tendere anche se è vero e qui arrivo all'ultimo tema che volevo toccare che un sistema di questo tipo si ritrova proprio nella disciplina delle misure sostitutive che è stata implementata anche questa si è dimostrata del tutto inefficace inefficiente nel corso degli anni si cerca di rivitalizzarla si dà più spazio alle pene sostitutive fino a 4 anni possono sostituire pene detentive fino a 4 anni anche la stessa pena pecuniaria in chiave sostitutiva perché può sostituire pene fino a un anno di reclusione qui abbiamo ritroviamo effettivamente il meccanismo inevitabilmente delle quote perché la pena pecuniaria agisce in via sostitutiva con un tasso che è stato finalmente reso ragionevole rispetto a quello precedente anzi si parte da un minimo di 5 euro in linea in linea con quello che è il tasso di conversione degli altri paesi europei che hanno ad esempio adottato invece il sistema tassi giornalieri e che dovrebbe rendere anche più appietibile la via delle misure sostitutive è vero c'è questa discussione sul tema del consenso che deve essere prestato dagli imputati quindi dal suo difensore e anche perché il consenso all'applicazione delle misure sostitutive a quel punto esclude l'applicabilità alla fine del processo della misura alternativa dell'affidamento in prova che in effetti fa concorrenza diciamo alle misure sostitutive nello scenario processuale può risultare in fondo l'esito più favorevole e da qui quelle proposte che in effetti trovo condivisibili di anticipare di inserire lo stesso affidamento in prova tra le misure sostitutive così evitando anche il problema dei cosiddetti liberi sospesi che attendono anche anni la decisione del magistrato di sorveglianza sulla loro istanza di ammissione all'affidamento in prova così non è stato si è però optato almeno per un regime alternativo o si scelgono le misure sostitutive o come dire si punta all'affidamento in prova alla fine del processo anche se poi l'affidamento in prova può essere comunque un processo rispetto a certe misure alternative e misure sostitutive e però ecco tutto sommato mi sembra che questo sistema potrebbe agevolare l'applicazione delle misure sostitutive in futuro andrà ovviamente misurato anche dati alla mano quanto quale sarà l'impatto di questa riforma ma mi sembra che la direzione in cui si è mossa se mosse il legislatore nel suo ultimo intervento possa essere apprezzato se non altro appunto come dicevo per un'attenzione data a questo tema spesso sottovalutato spesso poco noto e certamente poi l'altra sfida ma qui ha già detto cose molto importanti il collega Provera è quella della giustizia riparativa ecco qui è interessante veramente una battuta conclusiva e si diceva chi è chi ha seguito i lavori della commissione Cartavia che era stato proprio dal punto di vista della copertura finanziaria il tema più scottante perché era l'unica norma in effetti nel decreto 150 che impone nuovi oneri e quindi si poneva il problema di trovare queste risorse perché era l'unica parte della riforma che imponeva spese col controllo della ragioneria di Stato e così via si sottovaluta forse a volte che è un investimento è una spesa che può portare risparmi appunto perché la stessa giustizia riparativa può avere una funzione deflattiva in prima battuta ma proprio per la sua portata maggiormente rieducativa può avere una funzione deflattiva anche nel lungo periodo può prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti coinvolti anche in maniera molto più efficace che qualsiasi altra risposta sanzionatoria e quindi questa spesa articolo 67 che stanzia dei fondi può essere vista finalmente come un investimento nella giustizia penale e con questo ringrazio per l'attenzione e concludo il mio intervento grazie a lei grazie a lei professor Mazzacuva innanzitutto io ecco voglio tornare proprio su un concetto che ha espresso quello ancora appunto della centralità del carcere nel sistema della giustizia italiana carcere che in realtà ecco non dovrebbe avere solamente una funzione punitiva come è stato detto più volte ma una funzione rieducativa di rinserimento anche nella società mentre ho letto ecco questa statistica davvero impressionante che molto spesso chi commette un reato una volta appunto estinta la pena esce nuovamente nella società e trovandosi completamente solo e spiazzato e non avendo possibilità di rinserimento all'interno della società compie un nuovo reato per tornare in carcere è veramente un dato insomma impressionante su cui bisognerebbe riflettere ecco per arrivare proprio alla conclusione ecco del nostro forum dopo i singoli interventi vi chiedo innanzitutto singolarmente se volete commentare qualche aspetto dello speech dei vari relatori e soprattutto ecco in chiusura vi chiedo di trovare una parola una parola chiave che possa fare un po' da fir rouge diciamo ecco di questo forum io inizio con la mia spero naturalmente di non rubarla ai relatori e dico efficienza ripartirei poi dall'avvocato Soliani per chiudere il giro grazie su quello che hanno detto gli altri relatori per la verità non faccio altro che complimentarmi con loro perché hanno detto cose molto interessanti se me lo consente direi in due minuti tre cose e poi la parola la cerco mentre magari dico queste cose perché è complicato trovarla è vero è un inizio è un qualche inizio la riforma cartabia ci vorrebbe molto di più ci vorrebbero tante altre cose la preoccupazione però che noi abbiamo è quella per cui questa è stata in qualche modo proposta come una riforma epocale e dopo le riforme epocali è difficile che segua qualcos'altro la preoccupazione mia è che qualcosa di ulteriore faccia fatica ad arrivare e questa fatica la colgo anche se ho in testa i programmi politici che si affacciavano nel panorama diciamo delle nostre consapevolezze il giorno prima delle elezioni e se vedo quello che accade invece subito dopo nel senso che purtroppo abbiamo avuto un momento in cui avevamo un ministro della giustizia che faceva entrare principi straordinariamente da noi condivisi e più garantisti di quelli molto brutti invece che ci venivano raccontati prima abbiamo nuove forze politiche al governo che nel momento della propaganda ci raccontavano di un processo che avrebbe dovuto essere molto garantista efficiente ma garantista invece di una parte diciamo sanzionatoria che rischiava di rimanere carcerocentrica perché poi questa era l'idea che in qualche modo passava attraverso le forze politiche che poi sono state elette avevamo una condivisione da parte di tante di quelle forze politiche che poi sono state elette di alcune idee nostre molto forti separazione delle carriere sembrava che fossero tutti convinti di voler andare in quella direzione elemento fondamentale basta con i magistrati fuori ruolo i magistrati restino a fare i magistrati anzi ce ne vogliono di più e non facciamoli andare all'interno degli uffici legislativi basta con l'impugnazione delle sentenze di assoluzione riformiamo questa prescrizione con l'imputato a vita questo ci veniva detto da tante delle forze politiche che poi hanno preso tanti voti il primo documento che vediamo scritto è ergasto lo stativo facciamo peggio di quello che in qualche modo ci auguravamo con la corte costituzionale introduciamo un reato 434 bis che oggi diventa 633 bis perché hanno deciso di metterlo nella parte più corretta dal punto di vista del suo inquadramento ma un reato che non aveva nessun senso per come veniva scritto e differiamo l'entrata in vigore della riforma cartavia e quindi riforma cartavia c'era qualcosa di buono che si vedeva all'orizzonte avevamo paura che fosse troppo timida e che diventasse una riforma che per il fatto che poteva apparire ad alcuni epocale non avrebbe poi avuto ulteriori implementazioni se vedo quello che accade oggi da un punto di vista politico ne ho la conferma e sono preoccupato la parola non la so scegliere non le è ancora venuta allora torno alla fine allora passo al professor Provera anche lei naturalmente un commento conclusivo e se ce l'ha appunto un termine che faccia un po' da fil rouge rispetto a quello che ci siamo detti questa mattinata allora il termine che utilizzerei che è un po' a tecnico direi coraggio coraggio che può essere utilizzato in diversi contesti allora innanzitutto in chiave retrospettiva il coraggio che ha avuto la riforma cartavia di modificare in modo significativo il sistema penale certo migliorabile certo il cantiere non è ancora chiuso non siamo arrivati alla fine lavori però sicuramente il coraggio c'è stato se riprendessimo solo il tema della giustizia riparativa per esempio ebbè questa è sinceramente una riforma epocale ma non solo per quanto riguarda l'aspetto appunto di maggiore efficienza o di possibilità maggiore di perseguimento dell'efficienza ma proprio per fare in modo che anche a livello collettivo si cambi mentalità riguardo appunto all'idea della giustizia penale poi su questo magari ritorno coraggio anche però da parte degli attori del processo penale da parte di tutti gli operatori del processo penale nel segnalare come giustamente fa l'avvocato Soliano innanzitutto le criticità di questa riforma come abbiamo già detto che sono emerse in tutti gli interventi non dobbiamo appunto adagiarci in una visione irenista della riforma cartabia e quindi valutare quali sono gli aspetti che possono essere potenziati e coraggio nel continuare a ribadire come fa l'accademia come fanno le camere penali i principi fondamentali del processo penale che ahimè a volte sono un po' negletti potremmo dire giusto riferimento dell'avvocato soliani ai provvedimenti recentissimi adottati appunto dal governo che francamente vanno in una direzione diversa rispetto a quella del diritto penale liberale quindi coraggio nell'ambito appunto del sistema penale di avere una prospettiva una prospettiva che come dicevamo all'inizio non sia solamente quella della celerità ma sia quella appunto del sempre migliore perseguimento dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico quindi questo a mo' di battuta come parola chiave per quanto riguarda il nostro incontro di oggi c'è coraggio nel riformare coraggio nell'interpretare coraggio appunto nel criticare poi c'è tutto un tema che forse è rimasto un po' in ombra e che è emerso qui e là nei nostri interventi ma che merita sicuramente di essere ripreso in conclusione dicevo il malato è grave la malattia è cronica bisogna fare qualcosa anche sul versante evidentemente organizzativo e il ministero Cartabia qualcosa di significativo ha fatto con l'ufficio del processo per esempio ed è qualcosa da perseguire anche in futuro dicevamo nelle battute di apertura prima dell'apertura di questo convegno che l'Italia ha dei dati anche organizzativi molto negativi in termini di efficienza della giustizia considerate che un PM un singolo PM un singolo pubblico ministero in Italia ha 1300 fascicoli all'anno da gestire la media europea si aggira attorno ai 300 fascicoli tra l'altro si potrebbe dire un po' a modo di battuta riprendendo un topos dell'italiano appunto litigioso però questo non è come dire sostenuto dai dati visto che invece c'è una flessione delle notizie di reato tra l'altro nel corso degli ultimi decenni quindi questo dato fa emergere che cosa? fa emergere una carenza strutturale da parte sia di organico ma parte anche per quanto riguarda le strutture della giustizia e questo è un problema che ci portiamo avanti prima ancora dell'ultimo conflitto mondiale quindi anche su questo punto bisogna intervenire intervenire come? Prima di tutto facendo in modo che sempre più spesso si attinga ai migliori ai migliori appunto laureati per implementare le file della magistratura questo è fondamentale ma poi garantire anche ambienti di lavoro che siano ottimali che siano funzionali lo diceva l'avvocato Sogliani molto spesso ci troviamo di fronte a un sistema che non ci consente di lavorare nel modo più efficiente questo vale per gli avvocati vale anche appunto per i magistrati che a volte diciamolo pure apertamente lavorano in condizioni proibitive anche di luoghi in tutte le parti d'Italia quindi questo è un altro tema da affrontare in modo molto sincero in modo molto schietto ma con molta prospettiva detto questo non ci sono solamente problemi anche perché se no sembra che parliamo solamente di problemi direi che quello che bisogna recuperare sicuramente nell'ambito anche della collettività e questo l'Accademia deve essere l'alfiere di questa idea ma anche l'avvocatura chiaramente è un'idea diversa di giustizia penale un'idea diversa di giustizia penale che non sia carcerocentrica ma che non abbia la finalità della punizione la giustizia penale deve avere appunto la finalità della prevenzione che sono cose completamente diverse è chiaro si può fare prevenzione anche attraverso la punizione ma non solo attraverso la punizione so che questo che viene detto può sembrare alle orecchie magari della collettività rivoluzionario ma solo questo è il modo di intendere la giustizia penale in modo liberale ed è l'unico modo in cui possiamo intendere la giustizia penale pertanto perfetto ecco allora abbiamo avuto tante definizioni insomma una riforma coraggiosa una riforma per certi versi epocale a tratti anche timida ma d'altronde ecco non si può pretendere che da un giorno all'altro con la bacchetta magica si rivoluzioni completamente il sistema appunto di amministrazione della giustizia e quindi ecco a lei professor Mazzacuva il compito di ampliare ulteriormente il vocabolario di questo forum e poi insomma il punto esclamativo proprio sulla conferenza non è facile individuare un termine una parola chiave però proprio sentendo anche gli altri relatori mi veniva in mente il termine diversificazione perché effettivamente la riforma ecco non si può definire epocale sarebbe sarebbe troppo non muta le strutture fondanti né del diritto penale sostanziale penso proprio al sistema sanzionatorio non muta il catalogo delle pene principali da qualcuno anzi da anni è stata auspicata una modifica del catalogo delle pene principali l'ingresso anche dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare di alternativa al carcere già appunto nel catalogo dell'articolo 17 questo non è avvenuto neanche in questa occasione non vengono neanche alterate direi le strutture principali le strutture fondanti del processo penale e però cosa si fa? si cercano delle alternative delle vie diversificate alternative alla pena carcerare in chiave sostitutiva si trovano alternative appunto alla depenalizzazione sul piano della punibilità in concreto della procedibilità si trovano alternative al normale iter processuale sul piano dei riti alternativi si cerca di favorire la mancata impugnazione da parte dell'imputato ecco questa idea di maggiore complessità maggiore diversificazione sia appunto sul piano sostanziale che sul piano processuale in questa fase la direzione si deve probabilmente ancora attendere molto prima di di una riforma che magari riduca la complessità che si faccia carico di risolvere certi problemi ecco invece intervenendo proprio sulle strutture portanti del diritto penale sostanziale e processuale benissimo allora io vi ringrazio naturalmente per il vostro intervento ha trovato la parola anche la non sono riuscito a trovarne una ne ho trovate due va bene glielo concediamo allora il binomio nel senso extrema razio estremo rimedio perché questo perché io credo che questa riforma debba far sì che tutti gli operatori del diritto tutti gli operatori del diritto e poi anche l'opinione pubblica perché quella è importantissima muti la propria idea sulla giustizia penale che deve diventare l'estremo rimedio l'estremo rimedio deve essere il processo perché il processo si fa solo quando le cose vanno effettivamente valutate all'interno di un processo tutto il resto si scarta e il carcere certo non siamo ancora pronti per poterlo abolire a me piacerebbe anche quello ma deve essere davvero l'ultimo delle sanzioni possibili ultima delle sanzioni possibili perché lo diceva in parte anche lei prima ce lo dicono le statistiche ce lo dicono le statistiche che quando ci sono delle pene alternative la quantità diciamo di recidiva è bassa quando si passa attraverso il carcere la quantità di recidiva per coloro che escono è altissima quindi estrema razza alla fine è qualcosa che mi convince e deve essere qualcosa che interiorizziamo noi tutti operatori del diritto tutti coloro che concorrono all'esercizio della giurisdizione perché poi lo capisca anche la collettività perché è difficile da capire sì sì no infatti ecco stavo intervenendo dicendo che è una visione comunque rivoluzionaria questa rispetto invece all'immagine appunto della giustizia che ormai il pubblico ha interiorizzato e quando si parla di giustizia di certezza della pena si parla sempre appunto anche della massima pena cioè di quella carceraria per cui ci vuole anche un'inversione proprio di mentalità e sappiamo quando un'etichetta viene appiccata attaccata quanto ci voglia poi per rimuoverla quindi è anche uno sforzo proprio culturale quello che la comunità deve fare io ringrazio davvero i nostri relatori per l'intervento di questa mattina ovvero l'avvocato Andrea Sogliani penalista e presidente della Camera Penale di Milano io che ringrazio voi naturalmente grazie molte il professor Alessandro Provera professore di diritto penale Università del Piemonte Orientale of Council dello studio legale Baccara e Daboi grazie per essere intervenuto grazie a voi e infine il professor Francesco Mazzacuva presidente della sezione Young Penalist dell'associazione internazionale Detroit Penal grazie mille sono io che ringrazio grazie allora ringraziamo ancora i nostri relatori protagonisti di questo forum dedicato appunto al mondo legale in particolar modo al futuro della giustizia penale si conclude ecco questa nostra diretta streaming da Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana non si concludono però tutti gli aggiornamenti che riguardano l'economia la politica quindi mi raccomando restate sulle fonti tv perché la nostra programmazione continua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti